Musica Con la leggendaria Filippa qui, bellissima, anche più bella che in televisione, all'apertura della sfilata di Armando Cervino. Sì, sono qui a sostenere e ammirare la nuova collezione Cervino e non vedo l'ora di vedere sfilare sulla passarella le nuove creazioni e le cose che magari potrò mettere nell'inverno prossimo. Tu che sei una donna di grandissima classe, se dovessi consigliare un abito per una serata, a quale abito penseresti e a che colore soprattutto? Ma è molto difficile consigliare così senza vedere la persona, la cosa più importante è vestire l'abito e l'abito non deve vestire te. Ecco, sentirsi a proprio agio dentro un vestito è importantissimo. Io personalmente amo questo cut un po' molto stretto, no? Pencil skirt che puoi abbinare con una camicia di seta, magari con un tacco, un décolleté a punta e sei sempre perfetta. Io preferisco non andare troppo oltre però rimanere sempre abbastanza sobrio e elegante per non strafare, ecco. Senti, tu sei una cara amica di Armando Cervino, se dovessimo chiederti qual è la cosa più bella che ti ha lasciato lui? Ma lui è una persona eccezionale, modesta, molto carino e poi ha dei modi di fare che apprezzo molto, ma ovviamente mi colpiscono i suoi abiti, che ti fa sentire sempre molto femminile, molto elegante, sempre insomma perfetta e quindi sono un grande fan, amica del brand. Molto bene, ti chiediamo solo un'altra cosa, un saluto a tutti i nostri followers di Fashion News Magazine. Un bacio a Fashion News Magazine, a tutti i followers della vostra Filippa. Grazie ancora.